Con il sindaco Domenico Tanzarella, una nuova tappa ieri sera di questa fase davvero molto delicata, di avvicinamento alle elezioni amministrative. Ieri sera c'è stato un incontro con il consigliere regionale Giovanni Epifani, quali sono state le risultanze di questo incontro? L'incontro è servito innanzitutto per riprendere un dialogo che anche sul piano personale si era interrotto, naturalmente partendo dal presupposto che ogni e qualsiasi confronto, dialogo, scontro non ritiene di poter coinvolgere o decidere le sorti per conto di altre persone, ci mancherebbe altro. Io ero particolarmente, e lo sono ancora, preoccupato dell'aspetto generale politico della vicenda, che non può essere caratterizzato dai nomi, dalle persone, dagli innamoramenti del momento e dalle percezioni di disagio e di odie anche che si manifestano. Il centrosinistro Ostuni ha vinto per 15 anni, 20 anni le elezioni perché si è caratterizzato dalla grande capacità di unità e di coesione che veniva particolarmente apprezzata dai cittadini ostunesi. Ora, in questi ultimi mesi è venuto meno un aspetto assorbente, cioè quello della grande coesione della coalizione della maggioranza che amministra la città, che tra l'altro continua a amministrare la città senza dissensi o particolari manifestazioni. Mentre sul piano politico è venuto fuori un disagio, per non dire certe volte una sorta di riprovazione sia da parte del Partito Democratico nei confronti del Sindaco e della coalizione, sia del Sindaco, dei socialisti e delle liste civiche nei confronti del Partito Democratico, del Consigliere regionale Epifani, eccetera. Questo aspetto è particolarmente delicato perché io ritengo che al di là della soluzione al problema attraverso la celebrazione delle primarie, le stesse hanno un senso di esercizio di democrazia per la scelta del candidato se sono fatte all'interno di un quadro politico, di una coalizione chiara dal punto di vista politico e programmatico, altrimenti rischiano di diventare una sorta di bagno di sangue o di sport di caccia all'untore. E allora è necessario e indispensabile, e questo è stato il ragionamento che io ho cercato di fare a Giovanni Epifani, cioè è necessario, se è possibile, se c'è la volontà, ripristinare quella voglia e quella determinazione nel mettere a punto una maggioranza in una coalizione che si è sempre dimostrata vincente, che poi può essere aperta ed allargata ad altri, ma è, come si dice, il nocciolo fondante delle ragioni dello stare insieme del centro-sinistra, che in questo momento è stato messo in discussione. Ora, se è stato messo in discussione da minoranze, da frange presenti all'interno dell'uno o dell'altra componente del centro-sinistra, va verificato. Se invece non c'è più questa volontà, allora è inutile anche discutere di primarie o non primarie di Tizio, di Caio o di Sempronio, è il caso di procedere ognuno per la sua strada, come si dice, per sottoporre al giudizio dei cittadini le ragioni di alcune scelte che saranno fatte. Quindi è questo che andrà visto nelle prossime ore, perché è un motivo di carattere politico che deve condizionare poi il susseguirsi degli aspetti delle vicende elettorali.